Mi piace considerare Earth Hour, l'ora della Terra, un inno collettivo alla bellezza del nostro pianeta. È un messaggio forte per ricordare che la sua sopravvivenza dipende da noi, dai nostri gesti quotidiani, anche da quelli più piccoli, da quelli che ci sembrano più insignificanti, perché possono davvero fare la differenza. Il cambiamento dipende da noi, il futuro dipende da noi. Siamo l'ultima, davvero l'ultima purtroppo, generazione che può fare qualcosa per fermare il cambiamento climatico. Alle 20 e 30 spegniamo tutti la luce. Appunto, sembra un piccolo gesto, ma può fare davvero la differenza per il nostro pianeta.